Il nastro che noi vi consigliamo come nastro neutro è quello in polipropilene con colla acrilica. Perché ve lo consigliamo? Perché è un nastro ecologico, il supporto in polipropilene quando viene bruciato si trasforma in acqua e anidride carbonica e può essere riciclato anche se al nastro non capita spesso, tutte le volte che uno vuole. Esente da cloro, mentre il nastro in PVC contiene del cloro, la colla che viene utilizzata viene spalmata a base acqua senza utilizzo di nessun tipo di solvente. Il film in polipropilene è quello che costa meno, la colla acrilica è una colla di ultima tecnologia, va molto bene ed è quella che costa meno fra tutte le colle utilizzabili per il nastro adesivo. Un ulteriore grosso vantaggio che abbiamo noi e forse solo noi è una taglierina dedicata al nastro da 132 metri. Il nastro da 132 metri è lungo il doppio rispetto a un nastro tradizionale da 66 metri e fino adesso veniva prodotto sulle taglierine nate per fare il 66 metri. Allora la taglierina non era molto efficiente e quindi le inefficienze della taglierina facevano perdere tutti i guadagni che davano l'utilizzo di un solo mandrino invece che due per la stessa quantità di nastro, l'utilizzo di una sola scatola per 36 nastri lungo il doppio, il risparmio sulle spese dei costi di trasporto, sulle spese dei costi di magazzinaggio. La taglierina dedicata per il 132 metri ci permette di avere nella produzione di questo tipo di nastro un risparmio del 10%. Potevamo essere tutti contenti e dire guadagniamo di più, invece abbiamo fatto una scelta diversa, abbiamo deciso di rigirare tutto il risparmio al cliente, in questa maniera siamo più competitivi, il cliente ci apprezza di più, possiamo nutrire questa enorme taglierina che vuole produrre una quantità infinita di nastro. Per soddisfare al meglio il cliente abbiamo sfruttato la tecnologia avanzata dello stabilimento per realizzare tre versioni diverse di nastro, è sempre un nastro neutro, è sempre in polipropilene e è sempre in colla acrilica, ma abbiamo utilizzato un nastro che ha una colla più economica, è uno spessore un pochino meno elevato, vedete il nastro è un 25 micron, il nastro che vedremo dopo è un 28 micron e quindi è più spesso. Quando va bene questo nastro così economico? Esattamente quando va bene il mio Nokia da 39 Euro, quando lo usate soltanto per chiudere le scatole, è una colla specifica dedicata alla chiusura scatole, se voi dovete usare il nastro per metterlo sul plurible, per metterlo sul film estensibile, per attaccare un'etichetta a un cassone di ferro, per tutte le applicazioni che siano diverse dalla scatola in cartone, non comprate questo nastro. Se volete chiudere delle scatole in cartone avrete un ottimo nastro a un prezzo molto basso. Quello che noi consigliamo di più in assoluto è il nostro Abigold Top 132, è un nastro che costa un pochino di più dell'altro, ma è ottimale per il suo rapporto qualità-prezzo, ha una colla che va bene per le scatole, per la plastica e per il metallo, il film un po' più spesso è anche un po' più rigido e quindi è più facile da utilizzarsi da parte del magazziniere. Se poi vogliamo avere un prodotto ottimale, noi abbiamo realizzato il nastro a B, il nastro a B l'abbiamo chiamato presa cemento, è soltanto fatto in 66 metri perché ha talmente tanta colla, il 50% di colli in più, che se facessimo il 132 metri diventerebbe troppo grande e non entrerebbe più comodamente in molti degli stendi nastri. Questo tipo di nastro è quello che piace di più al magazziniere perché lavora presto, bene, senza difficoltà, con il nastro che gli attacca subito le scatole, il vostro magazziniere sarà contento di avere questo nastro, voi sarete contenti di avere delle scatole chiuse molto bene. Cosa bisogna fare? Bisogna scegliere assieme il nastro adatto a voi per lavorare bene e per ridurre gli scarti. Noi cerchiamo di proporvi il consiglio giusto perché voi possiate avere la massima qualità e il massimo risparmio inteso sia nel costo del nastro, sia in tutti i costi accessori, il magazzino, lo spazio occupato e l'utilizzo del nastro stesso.